Come risposta a Michael Jackson essere nero non piace e più di una volta lui ha fatto la dichiarazione, questa dichiarazione, perché secondo lui essere brutto, essere nero significa essere brutto. Quindi ha utilizzato una crema speciale che si è fatto somministrare da un medico che si chiama Klein e questa crema è stata praticamente, questa crema è stato il nome di Security Bill Brain e questa crema praticamente gli serve per schiarirsi la pelle, non ha assolutamente la vitiligine.